devo ammetterlo è per le cappone con il 21 ha sempre avuto un debole tant'è che a casa una 990 adventure però se ci pensate abbastanza normale per un appassionato di fuoristrada perché la lc8 adventure il prototipo il primo con fabrizio meoni è stata l'ultima max enduro l'ultima bicilindrica a vincere una parigi dakar e quando nel 2019 è arrivata la 790 diventata poi 890 è un po come se fosse arrivata finalmente l'erede della serie 9 59 90 adventure però una cosa non mi ha mai fatto impazzire come non ha mai fatto impazzire i tanti appassionati del genere ovvero quel faro anteriore scollegato dal resto della moto che non dava tanto l'idea di un adventure fatta per andare nel deserto però ora nel 2023 con la nuova 890 finalmente le cose sono cambiate finalmente l'adventura arancione è tutta intera proprio come le vere moto da rally le novità più sostanziali sono i convogliatori completamente ridisegnati che donano anche una nuova ergonomia il cupolino e la forcella che ora è regolabile nel precarico e nell'idraulica la r quella con le sospensioni più lunghe è senza dubbio il must have la più arrogante la più tutto ma se di fare i numeri in off non vi interessa più di tanto e magari madre natura non vi ha dotato di gambe lunghissime c'è sempre lei la 890 adventure più stradale e sicuramente pratica la base tecnica resta invariata rispetto agli anni passati e vengono ovviamente confermati il telaio a traliccio in acciaio al cromo moliddeno e il bicilindrico parallelo lc 8c da 889 centimetri cubi 105 cavalli e 100 newton metro il pacchetto elettronico in quanto a completezza è un riferimento per il segmento oltre al cruise control alla bs disinseribile al posteriore e al controllo di stabilità anch'esso disinseribile di serie ci sono tre mappe motore street rain e offroad mentre come optional è disponibile la mapparelli che permette di regolare la risposta del gas e l'intervento del controllo di trazione su nove livelli più off qualche dato prima di partire il peso secco è di 200 kg il serbatoio è da 20 litri le sospensioni assicurano un'escursione di 200 mm e la sella è regolabile a 840 o 860 mm il prezzo di partenza è di 14.700 euro ok abbiamo già fatto un po di strada e diversamente dalle altre volte vorrei iniziare parlando del comfort non è certo un mistero che le ktm in generale anche questa 890 che non fa eccezione non sono moto molto confortevoli in senso assoluto perché si sa a matti goffend pensano sempre e comunque alla prestazione tanto che il motto è sempre ready to race devo dire però che rispetto al passato hanno fatto un ottimo lavoro che ho apprezzato tantissimo per quello che è soprattutto il viaggio in autostrada in particolare la protezione aerodinamica il nuovo cupolino e i nuovi convogliatori che oltre ad essere più fighi e l'abbiamo già detto aiutano veramente tanto a tirar via aria dal corpo cupolino protegge diciamo fino appena sopra gli occhi circa qui direi mezzo agli occhi non dà fastidio la vista copre abbastanza bene le spalle parlando di un cupolino standard di serie no copre abbastanza bene le spalle e abbastanza bene anche il casco non mi fa impazzire la presa d'aria che c'è al centro perché un po di aria da lì arriva in faccia però mi immagino magari quando fa caldo d'estate 30 gradi sull'autostrada infinita secondo me li potrebbe tornare comodo chiaramente poi ci sono i serbatoi così a sviluppo verticale verso il basso che coprono anche i piedi questo è sempre stato un pregio di questa moto per quello che è il comfort in senso invece un po più assoluto soprattutto come posizione di guida e vibrazioni beh vibrazioni non ce ne sono tantissime specifico ce ne sono un po sulle pedane ma con le pedane rally senza gommino d'altronde inevitabile ci sono invece delle micro vibrazioni sul manubrio a regime autostradale 130 siamo intorno ai 5000 giri passeggero tanto spazio a disposizione e le pedane sono alla giusta altezza e anche le mani le maniglie per quanto un po strettine non particolarmente ergonomiche però si trovano nella giusta posizione per afferrarle sulla sella invece veramente poca roba da quel punto di vista non si avverte molto per quella che la posizione di guida beh innanzitutto grande pregio della moto di aver la sella regolabile su due posizioni sicuramente è la scelta perfetta di per chi vuole un 8 9 per chi vuole essere un 8 90 adventure per chi invece di gamba un po più corta perché con la sella in posizione bassa si mettono molto bene i piedi a terra quando si alza diventa un po più complicato ma si mettono molto bene i piedi a terra quando la sella è bassa il manubrio è giusto anche come larghezza sempre un po stretto classico ktm ma non dà particolarmente fastidio e certo non è forse la ktm 8 90 adventure per le persone alte perché con la sella bassa le gambe sono abbastanza rannicchiate il manubrio è giusto non danno particolarmente fastidio non sono tanto chiuse non mi sono trovato malissimo però magari averla un po più alta non sarebbe male infatti quando si alza le gambe si riescono a stendere un po di più molto bene però il manubrio diventa un po basso e questo qui secondo me fa venire fuori la vera anima di questa moto qui c'è questa qua quando alzi la sella soprattutto adesso che ha montato le pirelli scorpion rally str finalmente che non mi stancherò mai di ripetere un ottima gomma questa moto qua è una super moto non importa il 21 davanti la gomma un filino tassellata parabrezza quello che volete questa moto qua è una super motard c'è niente da fare non è tra le più rapide a scendere in curva però quando ci metti un po di fisico classico di ktm per guidarla diventa veramente una lama non so cosa dire con una ruota da 21 come questa qui mi passa la voglia di pensare a un 19 o addirittura un 17 la gomma è morbida grip infinito oggi eravamo in una condizione un po stretta di strada anche un po sporca però ti dà tanta fiducia e ci fai veramente quello che vuoi veramente quello che vuoi ma in tutti i sensi in frenata quando sei a centro curva vuoi piegare di più la butti giù in uscita anche se comincia a muoversi un po perché il discorso spensione adesso lo affrontiamo si muove un pochino entrano i controlli peraltro controlli che lavorano benissimo contro di trazione veramente ottimo però ci fai veramente quello che vuoi è micidiai da questo punto di vista secondo me è una moto da passo dove fidatevi che ci si possono togliere tante soddisfazioni allora sospensioni ho apprezzato molto che ci sia l'idraulica il fatto di avere l'idraulica regolabile cosa che sulla versione precedente non c'era dal mio punto di vista rimangono ancora abbastanza molli quando si vuole forzare tanto il ritmo ho provato già a chiudere tutta la compressione non fa moltissima differenza chiudendo il ritorno aiuta un po a renderla più sostenuta però si cominciano a avvertire di più le asperità cosa che invece se lasciate in settaggio standard come sono partito non succede anzi devo dire che è anche abbastanza confortevole comunque la forcella è morbida non è delle più morbide ho apprezzato invece la scorrevolezza che buona mono invece anche lì un po morbidino però lavora secondo me meglio della forcella soprattutto quando si forza un po più il ritmo freni beh potenza frenante ce n'è tanta soprattutto davanti per la coppia di pinze anteriori dietro un po meno ma non ho sentito necessità di avere qualcosa di diverso modulabile a 360 gradi forse un pochino aggressivo al primo tocco della leva però ci si fa l'abitudine per quello che invece è il grande protagonista al motore beh allora lasciatemi dire una cosa anch'io da parte mia di col v2 delle adventure 959 90 era sicuramente un'altra storia per quanto alla raffinatezza come carattere come santo coinvolgimento questo motore qua fa paura cioè veramente mi fa mi fa impazzire seconda c'è tantissima coppia ma è giusto nel senso non è troppo cattivo ma ti dà una spinta micidiale per dire abbiamo anche trovato un pezzo di strada chiusa oggi dove avevamo permesso di entrare fai le penne anche in terza e poi supportato il tutto da un quick shifter che in salita è a parte che quando metti dentro le marce fa proprio lo scoppietto che è perfetto c'è veramente micidiale riesce a cambiare anche su una ruota seconda terza con quick shifter ti dà sempre la giusta dose di dose di coppia è molto corposo è chiaro si sente che è un due in linea però molto corposo ti tira sempre fuori dalle curve veramente rapporti per la strada perfetti sesta un filino più lunga forse non avrebbe fatto male ma per divertirsi c'è veramente tanto motore tanta coppia ben distribuita una buona erogazione una bella erogazione mi piace come mi piace anche il feeling sul gas o meglio apprezzo molto il lavoro che c'è sulla 1290 qui è meno filtrato resta un po filtrato pecca tra virgolette un po di freno motore nel senso che non ce n'è tantissimo ci sono delle condizioni dove ne vorrei un po di più e il gas soprattutto in mappa street che secondo me è quella più sfruttabile a 360 gradi è un rimane un pochino filtrato mappa quando si mette mapparelli quando ci vuole potenza piena gas più diretto diventa più diretto rimane un po filtrato però molto meglio da questo punto di vista rispetto al v2 lc8 da 1301 cm cubi detto questo penso che su strada più o meno ci siamo adesso andiamo a fare un po di fuori strada perché è vero che questa non è la r ma c'è il 21 motore quello giusto quindi andiamo a vedere come si comporta fuori strada ok abbiamo fatto un po di fuori strada diciamo che ci sali sopra su questa moto non è tutto perfetto nel senso che è chiaro poi c'è anche la r questa è la versione più stradale però a prescindere dalle sospensioni e quant'altro va detto bisogna riconoscere che non è tutto perfetto ci sono un po di cose che preferirei diverse adesso ve le racconto però ci sali sopra e cavolo senti che è una moto fatta per fare del fuori strada studiata per fare questo è una moto da fuori strada il telaio il motore per come funziona rispetto anche agli altri che ci sono nel segmento è proprio si vede che è fatta per questo anche l'ergonomia ci sono delle cose che cambierei però quando sei in sella riesce a muoverti bene la moto la senti tua è leggera e riesci a usarla proprio bene a metterla dove vuoi e ricorda quasi annetto del peso in più e del motore quant'altro una moto da enduro una considerazione su tutte che secondo me è molto importante perché è chiaro quando si pensa a prendere una 8 e 90 comunque in generale una ktm per fare del fuori strada si va sempre a pensare alle r quindi quelle con ruota da 21 le sospensioni più lunghe è chiaro che chiunque debba fare del fuori strada potendo per mettere anche come lunghezza di gambe andrebbe a prenderla 8 e 90 r però attenzione non solo per chi è più basso ma anche per chi non è tanto diciamo schillato deve ancora prenderci la mano magari si sta avvicinando a questo mondo secondo me la 8 e 90 s la standard se vogliamo è meglio sotto certi punti di vista perché l'escursione è più bassa delle sospensioni 200 mm al posto di 240 quindi il baricentro è più basso e la moto ti aiuta molto di più ha molto più equilibrio e soprattutto le sospensioni morbide sono uno svantaggio quando si va forte quando si prendono le buche e adesso ci arriviamo ma aiutano tanto invece quando si va più piano perché aiutano a copiare meglio per certi versi mettono meno in difficoltà le cose che invece non mi hanno fatto impazzire pedane queste rally eccezionali ragazzi c'è tanto grip belle larghe c'è sempre il piede nella posizione giusta anche quando giri pedale del freno vitti le due torx lo gira il contrario per alzarlo ci arrivi bene la leva del cambio tutto sommato con degli stivali che non sono da cross o enduro ci metti bene il piede sotto senza doverla regolare quindi da questo punto di vista bene a moto bella stretta tra le gambe inutile che ve lo dica la guidi molto bene riesce a stringerla bene a tenerla bene a farla andare dove vuoi le pedane del passeggero danno fastidio nel senso che se si guida molto sulle punte soprattutto a sinistra dove non c'è il freno che quindi si tende a tenere il piede un po più indietro si tocca dentro come si tocca dentro purtroppo con l'asola per tirare giù il cavalletto e quindi quando si va a caricare tanto sulle pedane magari in piedi si deve saltare si vuole fare un'impennata si tira giù il cavalletto il sensore interviene un po presto secondo me e taglia potenza la moto togli un po di potenza e questo qui non è assolutamente una bella cosa soprattutto se magari state saltando qualcosa del genere avrei preferito che fosse diverso certo si si può staccare se proprio si deve però c'è veramente una piccola cosa sulla quale possono lavorare molto semplicemente questo secondo me è molto importante per il resto beh motore oltre al fatto che il gas è un po troppo filtrato un po troppo elettrico c'è motore della ktm non è troppo cattivo sotto quindi non mette mai in difficoltà però c'è sempre coppia sempre coppia e la frizione a cavo mi piace per essere una frizione a cavo ha un bello stacco bella progressiva però diciamo che fa un po fatica quando si usa tanto tende un pochino a gonfiarsi quindi tenetela sempre sotto controllo volendo potete ma parelli gestite il controllo di trazione col blocchetto di sinistra funziona sul livello 1 la moto si intraversa ma vi tiene sempre lì se volete guidare più liberi a mettete su zero con le str poi un terreno come oggi che è scivoloso ma un pochino tiene ci si riesce a divertire senza nessun tipo di problema per quanto riguarda le sospensioni ma il mono l'ho lasciato col settaggio standard volendo potete ma parelli gestite il controllo di trazione col blocchetto di sinistra funziona sul livello 1 la moto si intraversa ma vi tiene sempre lì se volete guidare più liberi a mettete su zero con le str poi un terreno come oggi che è scivoloso ma un pochino tiene ci si riesce a divertire senza nessun tipo di problema per quanto riguarda le sospensioni ma il mono l'ho lasciato col settaggio standard è molto molle però si sente che da trazione la moto fa lavorare bene una gomma che non è molto tassellata e poi di per sé questa moto qui non ha tantissima trazione meccanica e il mondo un po più morbido aiuta certo è che quando prendete le buche tende a tornare un po veloce e a comprimersi troppo in fretta però si può si potrebbe regolare un po ma so già che rimarrebbe un po molle quando si vogliono fare le cose troppo estreme forcella già chiuso tutto ritorno compressione quando saltate quando prendete le buche forti va a pacco chiaramente anche poca relativamente poca escursione ed è abbastanza morbida quindi un po la scelta sta voi nel senso siete più schillati avete voglia di una moto un po più impegnativa a livello fisico anche un pochino a livello mentale sicuramente la r fa il caso vostro ma per chi invece di gamba più corta fa un po fuori strada un po strada e comunque fuori strada vuole togliersi delle belle soddisfazioni perché vi posso garantire che con la facilità di guida che c'è su questa che sulla r non c'è veramente ci si diverte tanto allora a quel punto la standard quella che siamo abituati a chiamare s funziona funziona veramente quindi per concludere questa moto è cambiata rispetto alla versione precedente sì e no o meglio io direi che è stata evoluta sia affinata tanto lavoro è stato fatto sulla protezione aerodinamica che posso garantirvi funziona e poi diciamo che la forcella regolabile al suo perché secondo me su una moto di questo genere non poteva mancare ma soprattutto mi viene da chiedere cos'altro si potrebbe migliorare tenendo conto anche del per quanto riguarda la classe di emissioni quindi per il discorso del gas più filtrato o meno ma veramente qui elettronica siete al top c'è tutto funziona tutto molto bene l'abs peraltro in fuoristrada rimane sempre attivo davanti però rispetto ad altri frena nel senso che non evita solo che si blocchi la ruota ma frena aiuta a rallentare dietro la moto frena abbastanza bene e oltre a questo però c'è la ciclistica è sana c'è il telaio è bello il motore ormai non so più come dirvelo funziona molto bene quindi viene difficile capire dove altro possano intervenire ci sarebbe stata quella con ruota 19 la chiedono in tanti chissà se mai arriverà e differenzierebbe ancora di più i due modelli però io devo ammettere che con questo 21 qui non ne sento tanto la mancanza ora non vi dico altro soprattutto su fuoristrada perché vi lascio nelle mani di simone zaffaroni è sud orte di simo che vi racconta come va questa moto più nello specifico in offroad anche mettendola un po più a ferro e fuoco diciamo che posto giusto d'orte se non vi siete ancora iscritti al canale di youtube iscrivetevi date a vedere il sito i nostri social tutto quindi io vi lascio nelle sue mani e ci vediamo al prossimo video